Ciao ragazzi felice domenica a tutti andiamo a vedere cosa è successo ieri sera sabato 25 gennaio 2020 andremo a vedere un attimino cosa è successo col grafico lineare dei ritardi e con le posizioni grazie al programma Lotto Più Più Gold partiamo da Bari 67 a Bari grafico lineare e la sua uscita in quinta posizione come da previsione grazie al programma Lotto Più Più Gold poi ancora 22 a Firenze col grafico lineare e poi la posizione che dava proprio favorevole anche in quinta posizione e ancora andiamo a Genova stavolta 68 a Genova grafico lineare frequenza continua posizioni favorite nel 68 a Genova terza e quarta posizione in effetti in 68 in terza sempre a Genova 17 guardate la sua sola riuscita posizioni forti terza quarta e quinta posizione ed ecco il 17 in quarta posizione e poi il 74 a Napoli guardate la sua sola riuscita posizioni forti o favorevoli in prima seconda e quarta posizioni esce 74 in prima posizione andiamo a Venezia adesso 37 a Venezia soglia di uscita col grafico lineare unica posizione prevalente 37 in seconda posizione e così esce 37 a Venezia in seconda posizione e per finire 82 a Venezia grafico lineare soglia di uscita ottimale posizioni favorevoli seconda e quinta posizione esce 82 in quinta posizione ciao a tutti ragazzi un abbraccio Marcus alla prossima